Musica Noi siamo i comitati referendari della Gordino. Il 10 e 11 febbraio i comuni della Gordino andranno al voto per il passaggio alla regione Trentino Alto Adige. E' importantissimo andare a votare per i seguenti motivi. La montagna ha esigenze speciali e noi siamo in pochi. All'interno del Veneto non siamo rappresentati e la nostra voce non arriva a Venezia. Noi vogliamo vivere in una regione Dolomiti. Siamo stanchi di essere considerati la periferia della pianura, ma vogliamo essere al centro della nostra montagna. E' importante saper valorizzare il nostro territorio per potersi vivere. Vorrei che anche i miei nipoti possano vivere dignitosamente in questa bellissima valle. I referendum sono la massima espressione democratica dei disagi che vivono le nostre comunità. Non perdiamo oggi l'opportunità di salvare il domani. E' fondamentale raggiungere il quorum perché ci viene reato con le forze per portare avanti le nostre idee e le nostre richieste. Uniti possiamo farcela. E' la prima volta che le nostre comunità sono unite da un progetto comune. E' la prima volta che abbiamo l'occasione di dire quello che pensiamo. Approfittiamone. Perché i nostri paesi non diventino paesi fantasma popolati solo tre mesi all'anno, ma rimangono comunità vive e vitali. Perché già l'Unione Europea sta studiando nella Convenzione delle Alpi il modo per poter dare autonomia alle regioni alpine. Questo è il momento di scegliere. Vota sì! Vota sì! Vota sì! Vota sì! Vota sì! Vota sì! Vota sì al referendum. Non aspettare. Vota sì! Vota sì! Vota sì! Vota sì!